Unicoil, acciaio galvanizzato, MugaVin. Prodotti. Meno bobine di acciaio galvanizzato, bobine a taglio longitudinare di acciaio galvanizzato, e laminati di acciaio galvanizzato. Unicoil, in collaborazione con i fornitori di zinco approvati dal Borsa dei Metalli di Lump. Limite di sicurezza del piombo nello zinco, zinco e piombo coesistono nella crosta terrestre, tuttavia il piombo è dannoso per la salute umana. La conformità ai parametri dei limiti di sicurezza del piombo nello zinco, prevede che la presenza di piombo nello zinco non superi 90 mg barra chilogrammi. Intervalli di spessore dei laminati, tra 0,2 e 2,0 mm. Intervalli della massa della zincatura, tra 60 e 350 gsm. Applicazioni dei prodotti, ripiani di acciaio galvanizzato. Utilizzati per pannelli di, pavimentazione nei blocchi per la costruzione di edifici EPO. Porte metalliche galvanizzate con cavità. Tubazioni, protezione per cablaggi elettrici. Portacavi e passerelle portacavi, sistemi di supporto per cavi. Pannelli dei comandi elettrici e quadri elettrici. Arredi in metallo galvanizzato. Stoccaggio con imballaggio eccezionale di, bobine di acciaio galvanizzato. Bobine a taglio longitudinale e laminati di acciaio galvanizzato. Imballaggio standard di bobine di acciaio galvanizzato. Imballaggio di bobine di acciaio galvanizzato per applicazioni marine. Imballaggio premium di laminati di acciaio galvanizzato. Imballaggio premium di bobine a taglio longitudinale. Ritocco di zinco complementare, il prodotto ZincRick TouchUp è una soluzione innovativa e intelligente, per il trattamento dei graffi e delle aree saldate su laminati di acciaio galvanizzato, che offre soddisfazione agli utenti finali in modo sostenibile. Stampa dei componenti dei prodotti una volta ogni due metri lineare. Unicoil, prodotti di acciaio galvanizzato realizzati in Arabia Saudita, e approvati da otto marchi di qualità internazionali. Unicoil, prodotti di ecciaio galvanizzato.